Salve a tutti e bentornati a Flash News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione sui canali social di Per Sempre News. Iniziamo con le parole della Premier Meloni in un videomessaggio per i 70 anni dell'ENI. Oggi, come allora, la questione energetica è strategica e certamente lo sarà sempre di più. La guerra in Ucraina ha innescato una crisi, da molti punti di vista, anche dal punto di vista energetico, ma questa crisi sono convinta che possa anche diventare un'opportunità. Come sempre. E l'opportunità può arrivare dalla nostra posizione geografica e dalla leadership che proprio aziende come ENI hanno saputo costruire. Possiamo ambire a diventare lab naturale di approvvigionamento energetico dell'intera Europa. In questi 70 anni l'ENI è sempre stata un punto di riferimento per l'Italia. Passiamo ora al conflitto in Israele. Dopo la nuove sirene di allarme che segnalano l'arrivo da Gaza nel sud di Israele, comprese la città di Beersheba e le aree del Negev. L'esercito israeliano sta attualmente conducendo attacchi su larga scala su obiettivi del terrore di Hamas nella striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. Secondo i media un razzo è atterrato in un'area aperta vicino a Beersheba e testimoni segnalano che ci sarebbero dei feriti. Intanto è salito a 704, tra cui 143 bambini e 105 donne il numero di palestinesi uccisi dalle forze israeliane a Gaza. Il numero dei feriti è di circa 4.000. Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk ha sottolineato che, l'imposizione di assedi che mettono in pericolo la vita dei civili privandoli di beni essenziali per la loro sopravvivenza è vietata dal diritto internazionale umanitario. L'Organizzazione Mondiale della Salute ha chiesto l'apertura di un corridoio umanitario dentro e fuori la striscia di Gaza, posta sotto assedio totale da parte di Israele. Chiudiamo con lo sport. L'UEFA ufficializza l'Europeo 2032 a Italia e Turchia. L'esecutivo della Confederazione Europea, riunito a Nyon, ha infatti votatosi alla candidatura congiunta, l'assegnazione a Roma e Istanbul era apparsa certa sin dalla scelta dei due paesi, tre mesi fa, di presentarsi insieme, come unica candidatura all'edizione che si svolgerà tra nove anni. Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Bodi, ha commentato così la notizia. EURO 2032 assegnato anche all'Italia rappresenta una grande opportunità che dovrà generare eredità positive ben prima di quell'appuntamento e non solo nelle città direttamente coinvolte nell'evento. Queste erano le notizie di oggi. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News sarà domani, sempre alle 19, sempre sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.